Oggi andiamo a sostituire, vi farò vedere quanto è semplice, sostituire il filtro dell'aria abitacolo del Reggie Rover Sport. Andiamo a aprire il cassetto premendo in questo modo si sgancia il cassetto il filtro aria abitacolo si trova qua, basta premere con un dito e il coperchio si leva, qua abbiamo il filtro, lo prendiamo e lo mettiamo per terra. Eccoli qua, filtro vecchio e filtro nuovo, indovinate voi quale dei due, prendo il filtro nuovo, il filtro del flusso d'aria, lo andiamo a infilare semplicemente qua dentro, riprendiamo il suo coperchio, lo andiamo a infilare, richiudiamo il cassetto, e voilà!